Inizio, io sono un presentatore improvvisano ed è giusto perché stasera si suonerà della musica improvvisata. Passo immediatamente, senza essere robo-oroico, a presentare il trio Fuori Misura, composto da Franco Francesco Mazzello, che è buono i tuoi, non so se fare in ordine alfabetico, un signor musicista, mi ha detto con la S muscola, Antonello Salis, ha avuto centinaia di collaborazioni all'interno nazionale con tantissimi artisti, ne dico uno che mi ricorda adesso, Joel Beryl, poi Alessandro Ruiz, allo chiesero, e questo è per il che è un piacere di ascoltare e di apprezzare. Buona scoppa a tutti quanti! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.